ecco no? è arrivato a pensareci ah eh Michele due cose allora un passaggio di luce e gas abbiamo fatto? si ne abbiamo arrivato a bolletta ne abbiamo visto eh o a Michele hai fatto cacciare questa zappetta? si ne hai ci sarà un litro e un litro e mezzo di volo, guarda dentro a dirlo eh Moro allora che si dice questa parte eh? eh? Emo levati quelli quattro zaccheri ci? ma chi è sta vitellona eh? ma sorta eh? milfona sozza c'è la whatsapp eh? appuntato si ma eh eccola tu puoi spiegare la tua e la mia che la tua mi pare molto più addobrata omerà torno al conosciuto subito di qui eh sto una cazzata proprio eh ecco ora andrà cosa per impicciare eh baracche vi dimbo 70 dentro la multiple che so a me non c'entrami niente ora in vita e allora milanere mia io lì in casa ho spicciato su tutto un po' di fresca quindi prima da metà la roba dai una volta anche per sicurezza eh che vuoi fare temigliela andiamo un po' più avanti via le navi a male però eh evviva la figa berlusconi va berlusconi vai e la andiamo un po' andiamo un po' avvelenati in casa come sta maresciallo no come sta messa perché manca sai che cosa va a finire che mi addebitano a me eh andiamo qua andiamo a controllare ma perché una volta gli ho gambeggio a Torvajani che mi succedesse no? è così non mi succedesse no? non mi succedesse no? ma non mi succedesse no? mi succedesse no? Grazie a tutti.